Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, pillola video estiva, perché in fin dei conti la didattica digitale non osserva mai una vera e propria vacanza. Parliamo di mappe mentali e di come realizzarle con una nuova risorsa web, Whimsical, una risorsa segnalata, e lo ringrazio dall'amico, quindi collega maestro Roberto Sconocchini, docente che non ha bisogno di presentazioni, che è in un suo post. Ecco, la segnala. Da qui il mio videocorso in cui vi accompagno passo passo nell'utilizzo di Whimsical, nulla da installare, sito di riferimento www.whimsical.com e avvio dell'utilizzo nel piano gratuito che è più che sufficiente per la didattica con un clic su Sign Up with Google, che vi consiglio andando a scegliere poi un account personale Gmail o un account Google Workspace di istituto. Una volta effettuato l'accesso verremo riportati per l'appunto al nostro Workspace, quello che state vedendo, Andrea's Workspace nel mio caso. Ho cliccato su The Beginning perché qui verremo condotti al primo accesso. Come vedete abbiamo due mappe di esempio, ma in realtà possiamo fare molte più cose rispetto alla semplice mind map, lascio a voi la prova pratica su strada, perché abbiamo a disposizione la creazione di un flowchart, quindi di un diagramma, le sticky notes, quindi una sorta di mosaico di note. Però concentriamoci appunto sulla creazione di una mappa mentale cliccando su Mind Map. Lo ricordo brevemente, mappa mentale e concettuale non sono la stessa cosa. Questa è una mappa mentale perché ci consente di partire da un argomento principale centrale con dei nodi che si dirammano ai lati e possono essere nodi genitori, nodi figli, così con un linguaggio un pochino più empirico nodo sotto nodo, se io devo poi declinare meglio un sotto argomento. Guardate come è facile l'utilizzo e, ripeto, possiamo farlo sia da personal computer che da tablet o da smartphone, chiaramente tenuto conto della limitatezza della superficie dello schermo. Io, come in altri videocorsi sulle mappe faccio, ho questo pallino evidentemente del cubismo come argomento pensato per le mappe mentali. Il cubismo, se io vado a selezionare per l'appunto il testo, vedete in questa barra degli strumenti fluttuante che ho la possibilità, cliccando sulla Be Bold, di applicare ad esempio il grassetto. Ho anche una barra degli strumenti verticale qui in alto, riconoscerete alcuni pulsanti funzione. Con un clic sul piccolo segno viola a destra genero il nodo. Grandissima facilità. Vi invito a visualizzare qui sul mio canale anche il videocorso su Koggle, su Gitmind, su Libre Office Draw, cliccate su playlist mappe. Vedete, come dire, uno spaccato delle principali risorse che ho selezionato. Il colore viola potremmo non gradirlo, per cui clicchiamo sul pulsante viola e con altrettanta facilità applichiamo il colore giallo al nodo. Tra gli esponenti del cubismo annoveriamo sicuramente Pablo Picasso e quindi il testo lo inseriamo in questa maniera. Cliccando sulla catena, quindi su Add Link, io posso in realtà aggiungere un link esplicativo di quell'argomento. Mi invento un... e anche procedere con il www, ma digitiamo https2.com e poi un clic a vuoto, cioè fuori per confermare. Ricordo che possiamo anche effettuare copia e incolla per il link. Bene, ci vorrebbe però una immagine di Picasso. Sì, l'inserimento dell'immagine, come vedete, è posizionato a sinistra nella barra degli strumenti verticale. Clic su Upload Image. Dopodiché nei download vedete che, come nei migliori programmi di cucina, ho fatto in modo di avere già una immagine di Pablo Picasso, tratta da Wikipedia. Occhio sempre al luogo, cioè al sito da cui preleviamo le immagini, ai fini del diritto d'autore, che nella didattica, diciamocelo, è un aspetto a cui badare. Interessante la gestione dell'immagine perché vedete che c'è un pulsante, altra barra degli strumenti fluttuante sopra, che ci mostra il pulsante frame selezionato. Con un click, notate la differenza, immagine priva di cornice, frame, un click, immagina con cornice. A questo punto, prima che i più attenti notino sì, ho detto immagina prima, invece immagine con cornice, vado sulla maniglia di ridimensionamento laterale, tengo premuto il tasto sinistro e ridimensiono mantenendo le proporzioni. Tengo ancora premuto il tasto sinistro del mouse per posizionarmi e lo faccio per mostrarvi, così fa anche Canva. Andate a visionare anche il videocorso su Canva sul mio canale. Vedete che in queste risorse serie ben sviluppate abbiamo anche il righello che ci permette in trasparenza di farci osservare dove stiamo posizionando l'immagine. A questo punto, se io clicco all'interno di Picasso, vedete che c'è la possibilità in un lampo di fare che cosa? Di generare un sottonodo. Clicco sul pulsante viola, vado a cliccare giallo, digito ad esempio Guernica per lasciare intendere che il cubismo ci ha visto da questa parte lavorare con esponenti del calibro di Pablo Picasso, una delle opere principali di Pablo Picasso è Guernica, inseriamo anche l'immagine dell'opera, clic su upload image, andiamo a prelevare anche in questo caso con un clic su download una immagine di Guernica, guardate quanto è grande, c'è anche un fattore di scala che come vedete questo 100 che osserviamo qui, ho la possibilità di ritagliare un particolare dell'immagine, tuttavia, adesso come vedete io vado ad utilizzare comodamente il pulsante meno e più, perché questo mi permette di fare che cosa? Occhio, di ridurre non tanto l'immagine ma l'intera mappa, perché magari un'immagine un po' più grande voglio una vista di insieme. Io adesso clicco, adotto il consueto sistema delle maniglie di ridimensionamento, ecco vedete che riducendo l'immagine uno zoom 50 non è più necessario, io vado a riportarlo a un 100 che è la media, riduco ancora con la maniglia di ridimensionamento di angolo Guernica, tasto sinistro premuto, mi sposto cercandomi di allineare, ecco qua, vedete l'utilità del righello in questo caso, mi permette di distribuire correttamente gli elementi della mappa e aggiungo che cliccando su Picasso, in questo caso il mio nodo principale con la mia immagine, oppure ancora spostiamo Picasso, ecco qua, lasciamo che si veda il nome dell'autore, guardate, con un click ho i pulsanti di cui vi parlavo prima, ogni pulsante ha una sua specifica funzione, replace image, sostituisci, inserisci addirittura un duplicato perché magari serve la stessa immagine ribadita e così non la inserisco due volte, ma andiamo un pochettino a soffermarci, ecco con un click sul nodo dove c'è il mio testo perché vi mostro questa icona puntinata, l'icona puntinata che ci ricorda molto le app Google è in realtà l'icona che mostra diverse categorie di icons, di icone tipiche delle mappe mentali, ad esempio quali icone utilizzare? Icone numeriche per indicare una sequenza, modilinea del tempo, un ordine di priorità, le emoticons, perché no? In una mappa, ad esempio mi vengono in mente all'UNIH o DSA per caratterizzare i contenuti positivi in contrapposizione ai contenuti negativi. Scorriamo ancora, vedete ci sono davvero diverse categorie, abbiamo ad esempio multimedia, leaders, maps, location e così via, noi prendiamo direi genericamente arrows, quindi freccia e andiamo a prendere un segno che ci può ricordare il segno di spunta, se non addirittura ecco una freccia che fa riferimento a Pablo Picasso, vedete soprattutto la facilità di gestione della mappa stessa. Quando abbiamo terminato, beh intanto qualunque anomalia accada, ovvero si scarica la batteria del notebook, c'è un'anomalia sulla rete elettrica, se è un computer fisso, nulla di preoccupante perché tutto rimane salvato in cloud, cioè rientro su Whimsical e all'interno trovo la mappa. Poi nel momento in cui debbo esportarla o condividerla perché si lavori a più mani, basta fare riferimento al pulsante in alto a destra a forma di aeroplanino, ebbene sì, questo pulsante che mi ricorda l'icona di telegram, non so voi, altra grande app social ma positiva da poter impiegare per la didattica, vedete che io ho la possibilità di cliccare export e fino a lì export, naturalmente lascio la taglia 1 per, che è la taglia ordinaria della mappa, clicco su download, in un istante in formato immagine ho la mia mappa esportata, ma tra le opzioni possibili come notate c'è anche ottieni un link condivisibile, prima voce, get shareable link, io clicco e adesso guardate bene permessi, allora io, quindi io posso editare, ma chiunque abbia il link cosa può fare? Non ha nessun accesso? Chiunque abbia il link può vedere, addirittura posso richiedere una password per la visualizzazione, oppure chi riceve un link può editare, può modificare, ok? Inoltre io posso aggiungere un ospite tramite indirizzo mail che risulti visualizzatore, viewer o editor e capiamo bene dunque che ai fini della facilitazione allo studio e all'apprendimento, Wimsical in questo momento si colloca tra le risorse da me assolutamente gradite per massima compatibilità nell'utilizzo, basta un comune browser, efficacia di esportazione e condivisione, piano gratuito tra parentesi ha limitazioni che non incidono sulla realizzazione della mappa in sé ma su altri elementi e sull'arricchimento magari di items, cioè di elementi di una mappa che però vi assicuro ai fini didattici non raggiungeranno mai quel limite che ci farebbe condizionale passare da un piano starter ad un piano magari pro dunque a pagamento. Ebbene sotto l'ombrellone in montagna seduti comodamente a casa, una pillola video didattica, un suggerimento per dedicarci alla creazione di ottime ed efficaci mappe mentali mind maps. Un caro saluto da Andrea Cartotto e appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso. Buona estate, ciao!